Cari amiche, cari amici, questo è il nostro quarto appuntamento nel tempo di Quaresima. Ci guida il Vangelo di Giovanni e noi andiamo ad ascoltarlo insieme. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio onigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque, infatti, fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Carissimi fratelli, le letture di questa domenica possono essere sintetizzate in una frase. Vera protagonista della storia è l'amore di Dio. L'uomo che lo scopre avverte prepotente il desiderio di ricambiarlo e quindi progetta la sua vita come una risposta a questo amore che ha ricevuto in modo del tutto immeritato. Se noi osserviamo la storia della salvezza, vediamo quanta paura ha l'uomo che i suoi errori vengano scoperti. Da Adamo in poi il peccato produce vergogna. Chi può reggere il peso della propria miseria? Beh, da soli certamente noi non possiamo, perché siamo fragili e insufficienti. E sopravviviamo solo se veniamo accolti, se veniamo curati, se veniamo riconosciuti. Allora, mi pare di cogliere oggi, attraverso le letture, ma noi in modo particolare ci soffermiamo sul Vangelo, un filo conduttore che emerge dalla liturgia della parola, dalla morte alla vita. E il Vangelo, in modo particolare, annuncia che il figlio onigenito è stato mandato nel mondo perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Giovanni nel prologo aveva detto che la luce era venuta nel mondo ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Però a quante lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ecco, cari amici, cari fratelli, quale bellezza il fatto di sentirci amati da Dio, anche quando noi da peccatori non avevamo nessun merito, ma il Signore ci ha tratto fuori dal peccato. E chiaramente questo lo vediamo in questo periodo in modo particolare proprio nella croce di Cristo noi siamo stati salvati. La croce che per alcuni è soltanto un simbolo da ostentare, per noi cristiani invece diventa il motivo della nostra salvezza. E infatti accanto alla croce, solitamente nelle chiese, oggi ci sono i cieli che sono collocati proprio accanto. E' davanti alla croce che il Presidente si mette a recitare la professione di fede. Allora, noi vediamo proprio attraverso la lettura del Vangelo questa grande sorpresa, la sorpresa di essere amati. C'è vergogna e certo amarezza quando si devono riconoscere i propri sbagli, soprattutto quando noi abbiamo sotto gli occhi devastanti le cause del nostro comportamento. Ebbene il Signore non ci abbandona a noi stessi. Ecco quindi che la croce diventa simbolo di amore. Normalmente sono gli uomini che tentano di trovare il modo per ringraziarsi il Signore. Qua invece è Dio che sceglie di diventare come noi e sceglie la via della croce, si immola e si dona in modo totale per tutti. Allora gli uomini vedete che nel tempo hanno cercato altre salvezze, si sono resi conto che alla fine cadono in una serie di illusioni evanescenti, di retizie senza spessore e di pienezze carenti. Di questi tempi c'è una pandemia, ma da molto più tempo invece c'è l'incredulità nel perdono, la vergogna di se stessi, la sfiducia in Dio. Questi mali noi dobbiamo combattere perché hanno creato molto più dolore e morte. Un cuore nella tenebra disperde, un cuore perdonato ricostruisce. Buona domenica a tutti!